Sciopero da parte dei dipendenti della società Sud Elettra, gli operai si sono ritrovati questa mattina dinanzi allo stabilimento Eni di Gela. Chiedono il pagamento immediato dei stipendi elettrati e soprattutto vogliono notizie certe sul loro futuro. La situazione si è fatta problematica in un momento in cui il settore industriale soffre. Stiamo protestando perché abbiamo problemi per quando riguarda l'occupazione che attualmente è in corso qua nello stabilimento e il datore di lavoro attualmente ci pone in vero obbligatorio e non retribuisce ai lavoratori con lo stipendio. Quindi viene a mancare lo stipendio ordinario alle persone e non si attiva per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali che potrebbe usufruire di cassa integrazione o solidarietà. La società preferisce anticipare nuove mensilità per licenziare le persone e non usufruire di questo ammortizzatore sociale. Per quanto riguarda la crisi attualmente che c'è nello stabilimento e i lavori che al mese si sono detti che dovranno riprendere la società attualmente si ostina a porre le persone in mobilità. Quindi noi siamo persone danneggiate, quindi non stiamo protestando per danneggiare un'azienda, stiamo protestando perché non possiamo mantenere le nostre famiglie. Ognuno di noi ha delle spese da sostenere mensilmente. A manifestare con gli operai c'era anche Orazio Cauci della FIOMO Cigiella. Oggi c'è un settino di protesta, due ore di sciopero, dalle 10 a mezzogiorno che è relativa ad una serie di ore di sciopero che abbiamo attuato come organizzazione sindacale nei confronti della Sudelettra perché continua nella sua azione di ridimensionamento del personale a fronte della proposta nostra di attivazione di uno strumento che potrebbe essere cassa integrazione ordinaria o quello derivante dal Ministero dello Sviluppo Economico, quindi la deroga. Noi siamo per l'occupazione e quindi vogliamo che i lavoratori siano legati all'azienda, rigettiamo con forza questa posizione rigida dell'azienda. Oltre a questo c'è da denunciare che l'azienda da alcuni mesi ritarda nel pagamento degli stipendi o non corrisponde ai lavoratori il giusto dovuto in termini di anticipo di ferie o di indennità di malattia e di altre forme contrattuali. Infatti abbiamo scritto una lettera all'ENI che si sta attivando per cercare di regolarizzare la situazione perché rientra tutto nell'accordo del protocollo di legalità.